Eleambulanza fuori uso, altra giornata a terra dopo l'incidente di Pesaro A Pano, la bonifica del convitto Vittorio Colonna Villa San Martino, ipotesi parcheggio nel verde della Don Bosco Riviera Banca, via alla Startup Weekend Si alzano le vele della regata Pesaro-Pola Buona serata a tutti voi Amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati ad un nostro nuovo spazio informativo, informazione della sera Quella di Rossini News, il nostro telegiornale che in questa serata di giovedì 27 aprile Apriamo con la cronaca e con un piccolo aggiornamento sulla notizia d'apertura di ieri Quella della presunta aggressione a una donna di 55 anni Poi è rivelatasi un episodio ben diverso e che ha avuto anche un corollario di soccorso piuttosto turbolento E infatti dopo oltre 30 ore ancora a ferma parcheggiata sulla statale adriatica di Pesaro Poco distante da via Milano, l'eleambulanza che ieri mattina è stata appunto chiamata per il soccorso Ad una donna ferita alla testa da colpi di mattone L'elicottero atterrato alle 9 di ieri è infatti finito per risucchiare un pannello pericolante Di una vicina officina dismessa rimediando danni che lo hanno tuttora lasciato a terra fuori uso Privando il soccorso regionale di questo mezzo Per quanto riguarda la donna ferita per la quale era stato invocato il soccorso E' stato confermato il gesto autolesionistico della 55enne pesarese Che ha ammesso alla polizia di essersi colpita da sola col mattone Facendo decadere nell'iniziale pista dell'aggressione La donna è attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria Cronaca che ci porta anche a Fano dove ieri sembra essersi conclusa La decennale vicenda dell'ex convitto Vittorio Colonna Per anni luogo di degrado e di dimora di sbandati e senza fissa dimora Oltre ad essere stato oggetto di numerosi controlli azioni di sgombero di occupanti abusivi Ieri a seguito dell'intervento risolutivo del prefetto greco concertato col sindaco Seri E' stata coinvolta la proprietà Invimit nella soluzione della problematica E attraverso l'azione congiunta delle forze di polizia L'immobile è stato definitivamente liberato Ora la proprietà provvederà ad intervenire per la messa in sicurezza della struttura Attraverso la muratura di tutti gli accessi E sono anche in corso le valutazioni per una riqualificazione necessaria per una futura utilizzazione Ed ora ci occupiamo delle quartiere pesarese di Villa San Martino Che al centro di una recente espansione Visto anche il grande progetto di realizzazione della cittadella del basket Un grande intervento che però necessita anche una rivoluzione di parcheggi Che potrebbe costare pesanti sacrifici nel verde scolastico E' stato convocato per mercoledì 3 maggio Un consiglio di quartiere di Villa San Martino Che ha per ordine del giorno il progetto di parcheggio di Via Togliatti Non c'è infatti nessuna comunicazione ufficiale Ma vi sono più comunicazioni ufficiose che indicano come l'amministrazione comunale Stia valutando la possibilità di ampliare l'area di sosta su Via Togliatti All'ampio spazio verde nel perimetro della scuola Don Bosco Un'esigenza derivata dalla crescita che sta avendo quella porzione di quartiere Con la nascente cittadella del basket Affiancata all'impianto natatorio Facchini Al campo da calcio di Villa San Martino E recentemente inaugurato Parco Avventura Un ampliamento e una crescita di appeal che rischia di pagare pegno con il verde urbano Che da mezzo secolo è parte integrante dell'istituto scolastico Un'ipotesi che vede già la netta contrarietà di buona parte del quartiere Compresa la storica consigliera Lucia Pighin Noi non ci aspettavamo assolutamente Adesso di questa novità che abbiamo saputo tramite Facebook Che vogliono costruire un parcheggio Al posto di questo prato Una porzione, una parte, non lo so Tutto il parcheggio, comunque no Io non parlo a nome del consiglio di quartiere Nonostante io sia una consigliera di quartiere Io parlo a nome del mio quartiere Io parlo a nome di tutte le persone che portano i figli a scuola qui E di tutte le persone che abitano qui E che godono di questo verde E di quello che questo verde produce Cioè perché se noi ci facciamo un parcheggio sopra Poi i sensibili, le persone sensibili forse sapranno Che un verde, un prato o degli alberi o un bosco Abbassano la temperatura E noi stiamo continuando, l'amministrazione anzi Sta continuando a costruire, cementificare, fare parcheggi E questo significa anche un problema per il nostro clima Questo è un argomento di cui sembra che loro non si interessino Io sono basita da quello che ho sentito Nulla è in contrario contro la cittadella del basket Anzi, noi siamo orgogliosi che si faccia nel nostro quartiere Il problema è che il parcheggio non va bene in questo prato Il parcheggio non si fa su un prato Si devono trovare altre soluzioni Non ci sono comunicazioni ufficiali Ma l'attendibilità di questa possibilità Va oltre il chiacchiericcio social Al punto da dedicarvi un consiglio di quartiere Parliamo di più di una chiacchiera social Ho citato i social solamente perché speravo Come consigliera di quartiere di saperlo prima di un social Le foto che vi mostriamo ora ci sono state inviate Dalla nostra telespettatrice che ringraziamo E documentano un incidente stradale avvenuto attorno alle 13.30 Sulla strada montelabatese che ha coinvolto un'autovettura Non lontano dalla rotatoria d'accesso a Montelabate Un ferito è stato soccorso e condotto in ospedale per accertamenti Attraverso la sua pagina Facebook il sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci ha condannato l'ennesimo episodio di vandalismo Ad essere danneggiato questa volta è stata una casetta dell'acqua collocata in zona babuce Il sindaco annuncia che saranno posizionate telecamere fototrappola per relative sanzioni a chi commette tali scempi Dopo i gravi danni dell'alluvione di settembre Domani riapre la prima strada per approdare al Monte Catria Particolarmente richiesta da allevatori e aziende agricole Oggi sul posto c'era anche il deputato Mirko Carloni Che ha effettuato un sopralluogo sul tratto di Acquaviva di Cagli La politica a cambio ai vertici della Lega delle Marche Il commissario straordinario Riccardo Augusto Marchetti ha infatti annunciato oggi la fine del suo mandato dopo tre anni Nel congresso regionale di giugno passerà il timone a Mauro Lucentini Nuovi progetti, strategie di comunicazioni condivise e rivolte a una capitale diffusa Pesaro 2024 ha infatti oggi fatto tappa al barco ducale di Urbania Per il secondo incontro extraurbano degli appuntamenti mensili dei 24 delle 2023 Appuntamenti pensati per condividere il percorso progettuale con il territorio Presenti nell'occasione amministratori e operatori dell'Unione Montana-Alta Valle del Metauro Chiamate a interpretare il tema imprese culturali e creative Il sindaco Matteo Ricci in apertura ha detto Vogliamo che Pesaro, capitale italiana della cultura 2024 Lasci il segno nell'opinione pubblica italiana ed europea Come una delle realtà che più di altre investe sulla cultura e sulla bellezza Le nostre telecamere questa mattina si sono accese a Rimini Perché nella città romagnola è stata presentata la terza edizione di Startup Weekend Un progetto di Riviera Banche che coinvolgerà un centinaio di studenti Fra le province pesarese e riminese Un argomento che approfondiremo in uno speciale Che andrà in onda martedì 2 maggio alle 21.20 Ma che intanto vi anticipiamo nel servizio realizzato da Paolo Pagnini Amici e amici di Rossini TV Siamo di fronte all'ingresso della prestigiosa sede di Rimini di Riviera Banca Fra pochi minuti passeremo quella soglia Entreremo alla conferenza stampa di presentazione Per il ritorno dello Startup Weekend Techstar Startup Weekend Oltre 100 studenti coinvolti delle due province di Pesaro e di Rimini Vado a leggere l'Istituto Tecnico Statale Economico Valturio E il Liceo Caris di Rimini Il Liceo Marconi e l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Bramante Genga di Pesaro Questi studenti parteciperanno a due giorni e mezzo A un weekend nel quale dimostreranno e testeranno le loro idee imprenditoriali Ci incontreremo il venerdì Spiegheremo le regole del gioco E inizierà una maratona che terminerà la domenica Con la presentazione dei progetti elaborati in questi tre giorni Dai ragazzi ad una giuria che arriverà Che non ha saputo niente dei lavori prima E fondamentalmente chi ha voglia di raccontare un'idea O chi gli viene un'idea in quel momento può presentarla In auditorium qui dove siamo adesso Dopodiché i ragazzi che vengono attratti da un'idea o da un'altra Decidono di aderire al team Poi abbiamo delle regole di ingaggio e un'esperienza tale Per guidarli a costruire il team A lavorare anche con persone che fino ad ora non avevano mai conosciuto E poi questo gruppo di professionisti e imprenditori Che si mettono in gioco anche in forma volontaria durante questi giorni Li aiutano e li supportano a sviluppare tutto quello che serve Per passare da un'idea a un'impresa Quindi dall'immagine coordinata alla relazione del business plan A come si presenta in pubblico Perché è un altro tema complesso per tutti Quindi immaginiamoci poi dei ragazzi che magari davanti a una platea non hanno mai parlato Quindi tutta una serie di esercizi che è proprio una maratona di 54 ore Che alla fine fa crescere tutti Perché alla fine il beneficio è comune e vinciamo tutti Delle idee che escono poi che cosa succede? Che cosa se ne fa? Ci sono anche possibilità concrete di farle diventare idee imprenditoriali realizzate e applicate? Sì certo è già capitato e penso che succederà ancora Perché i ragazzi più intraprendenti che si scoprono con delle attitudini particolari in questo percorso Poi decidono che quell'idea la vogliano realizzare Quindi inizia un vero e proprio percorso di imprenditorialità Quindi è già capitato negli anni precedenti che abbiamo connesso delle imprese del territorio A delle idee in maniera particolare perché uno poteva essere l'utile all'altro E tuttora si stanno sviluppando dei progetti È la dimostrazione evidente di un grosso coinvolgimento Che Riviera Banca vuole avere in questa iniziativa E nei confronti dei giovani in particolare Mettendo a disposizione i propri uffici, i propri locali Le proprie attrezzature I suggerimenti dei collaboratori e degli insegnanti Che seguiranno questo lavoro Secondo me è proprio la dimostrazione Che l'attenzione per i giovani è molto elevata Da ristorante già affermato a produttore di olio di eccellenza assoluta È il caso del ristorante Piccolo Mondo di Monbaroccio Finito sul podio per aver realizzato uno dei migliori oli d'Italia La fattoria agricola Piccolo Mondo di Monbaroccio Sul terzo gradino del podio alla mostra mercato dell'olio Expolea Un grande traguardo per il titolare Romano Lorenzi Freggiato dell'importante riconoscimento nazionale A pari merito con un altro produttore marchigiano L'azienda agricola Guerrieri di Terre Roveresche Un riconoscimento arrivato sabato 22 aprile Nella Pinacoteca San Domenico di Fano Nella sezione Fruttato Medio Nel concorso organizzato da Olea per la categoria L'Oro d'Italia È stata veramente una grande soddisfazione Perché abbiamo messo tutto l'impegno come tutti gli anni Per poter fare un olio di grande qualità E quest'anno finalmente ci è riconosciuto a livello nazionale Insomma che abbiamo vinto il terzo premio Sul fruttato medio con un blend di olio Con tre varietà di olive Leccino, Frantoio e Raggiola Quindi questo premio sicuramente lo dedicherò a mio padre Che in primis è lui che è il conduttore dell'azienda agricola Fattoria Piccolo Mondo È un olio chiaramente riconosciuto con Mi sembra 92, sulla scala 92 centesimi Con sentori di erba, taglio fieno, carciofi È poco mandorlato Quindi ha un'acidità praticamente 0,20 Bassissima Con dei polifenoli altissimi 612 di polifenoli Oltre 400 etichette valutate da Olea Per decretare il miglior olio d'Italia Oltre alle marche con le sue due aziende sul podio Si sono contraddistinte nella qualità del prodotto Anche Sardegna, Umbria e Puglia Quest'ultima salita alla ribalta con il primo premio Assegnato all'azienda agricola Donato Conserva In provincia di Bari Non solo picnic è note al Parco Miralfiore Gli eventi del primo di maggio delle comune di Pesaro Avranno un contenitore dedicato per i bambini Che sarà realizzato a Baia Flaminia In Baia Flaminia al mattino verso il campo di Marte Al pomeriggio saranno in Piazzale Europa Troverete animazione per i bambini Un modo anche che l'amministrazione ha voluto andare incontro alle famiglie Che il primo di maggio sicuramente sperando In una bella giornata potrà essere motivo di divertimento Di coinvolgimento Quindi ci saranno delle attrattive che verranno organizzate Da questa associazione che abbiamo coinvolto Anche loro tutti giovani Quindi capiscono anche le esigenze delle famiglie e dei bambini Siamo contenti come abbiamo fatto per il Parco Miralfiore Quindi il primo di maggio ci sarà l'evento con la musica Verso la Baia ci sarà la possibilità per tutti i bambini di divertirsi Diciamo che coinvolgeremo bambini e famiglie E sarà proprio un evento all'insegna del divertimento L'evento è letteralmente gratuito Quindi possono partecipare tutte le persone che vogliono Saremo in Baia Flaminia L'evento sarà strutturato lì In due momenti diversi della giornata Quindi saremo dalle 10 a mezzogiorno Quindi la mattina a Campo di Marte E poi al pomeriggio dalle 17 alle 19 in Piazza Europa È già tutto organizzato Quindi saremo affiancati dal nostro staff E quindi i bambini che arriveranno insieme alle loro famiglie Troveranno le aree gioche già allestite Dove potranno giocare liberamente insieme al nostro staff E poi ci saranno aree truccabimbi Aree dove si farà la baby dance Spettacoli di bolle di savone gigante E poi degli spettacolini insieme alle nostre mascotte È tutto pronto per la partenza della 37esima edizione Cona e Porto Civitanova La più lontana proviene dall'abruzzese Ortona Dalla vela al ciclismo Si annunciano circa 3.000 i partecipanti All'ottava edizione della Gran Fondo Squali Trek Dopo sette edizioni Fra Cattolica e Gabice Mare L'evento che continua a crescere Quest'anno ha incluso anche l'amministrazione di Tavuglia 12, 13, 14 maggio Ottava edizione Tre percorsi da Cattolica a Gabice Mare Ora passando pure per Tavuglia Numeri e coordinate geografiche Della Gran Fondo Squali Trek 2023 Evento ciclistico che in appena sette anni di vita Si è conquistato il quarto posto Nel panorama delle Gran Fondo italiane Radunando ogni declinazione di passione per la bicicletta Da quelle da corsa alla MTB, dall'e-bike all'e-gravel L'ottava edizione presentata al Mississippi di Gabice Mare Non nasconde le ambizioni di superare quest'anno La quota di 3.000 partecipanti Come dichiarato dal coordinatore dell'evento Filippo Magnani Che ha unito negli anni i motori organizzativi Del Velo Club Cattolica e del ciclo team 2001 di Gabice Mare Le partecipazioni stanno dando la grande Perché poi abbiamo già 2.000 erotti iscritti Già un mese dalla gara E siamo a grandi numeri Molta gente ci crede perché è una manifestazione molto turistica Per cui oltre all'agonismo che viene qui da noi a partecipare Ma viene soprattutto per la grande festa Che noi sappiamo attribuire a questo evento Quest'anno il weekend inizierà il venerdì pomeriggio Con una gara di bambini Il sabato ci sarà per gli amanti del fuoristrada Una manifestazione per le biciclette gravel lungo il fiume Conca Il pomeriggio ci sarà una passeggiata dedicata alle famiglie Dei cittadini del circondario e degli iscritti Mentre la domenica oltre ai due percorsi agonistici Quest'anno abbiamo ampliato l'offerta Con la Squali 46 Una sorta di cicloturistica dedicata ai ciclisti Che non hanno lo spasimo dell'agonismo e della classifica Al Mississippi applausi dalle tre amministrazioni comunali coinvolte Da Cattolica a Gabice Mare Passando per la New Entry Tavuglia e l'appoggio della Regione Marche Un evento appunto giunto all'ottava edizione Su cui abbiamo creduto fin dall'inizio Quindi nel lontano 2015 Anzi era fine 2014 Quando ci è stata proposta questa iniziativa importante Ad opera appunto organizzata da Velo Club di Cattolica E dal ciclotimi di Gabice Abbiamo subito creduto in questa manifestazione Sia noi che l'amministrazione comunale di Cattolica E siamo soddisfatti, felici che sia cresciuta nel tempo Tanto da porla oggi tra le prime dieci Gran Fondo d'Italia Quindi c'è uno sforzo enorme di tutti Degli organizzatori C'è un giro di volontari veramente pazzesco Perché bisogna comunque garantire la sicurezza E' chiaro che l'arrivo di questa Gran Fondo a Gabice Monte È un fiore all'occhiello perché poi avremo modo Abbiamo avuto sempre un grande riscontro Diciamo di una promozione fatta proprio per far conoscere le meraviglie del nostro territorio La terrazza di Gabice Monte poi si affaccia sulla riviera romagnola Quindi da lì è proprio la porta Siamo sia da una parte porta nord delle Marche Ma anche la porta sud della Romagna Ho partecipato a tutte le otto edizioni Per me è un evento bellissimo Un evento di promozione vera del territorio Perché sono migliaia le persone che vengono apposta Qui a Gabice, a Cattolica Ma vengono un po' di tutto il territorio A Gradara, a Tavuglia, a Pesero Perché rimangono qui per almeno tre giorni Una Gran Fondo che appunto coinvolge migliaia di persone La novità di quest'anno voglio dire Questo percorso, questo circuito aperto a tutti Anche le biciclette a pederata assistita Un percorso di 46 km Che viene chiamato appunto il percorso VR46 Che partirà da Cattolica Per poi andare a Tavuglia Per poi scendere verso Pesero Tutto il San Bartolo Ma un percorso quindi di 46 km Aperto anche le persone come me Che magari vanno in bicicletta Amano una bicicletta Ma che non riescono a fare i 120-130 km Senza avere una pederata assistita E quindi un circuito veramente nuovo Che darà sicuramente ulteriore slancio A questa bellissima iniziativa Concludiamo con il basket Ricordandovi che è stata anticipata A sabato la sfida della VL a Napoli Argomenti che tratteremo questa sera Nel consueto approfondimento del giovedì Di Marco Cadeddu insieme a Canestro Ma intanto approfondiamo anche alcune tematiche Della VL e del suo rush finale Con questa intervista al cestista Riccardo Visconti Realizzata dal nostro Edoardo Razzi Riccardo Visconti Un finale di stagione tutto da scrivere Che aria si respira all'interno dello spogliatoio? Che aria si respira all'interno del mondo VL? Sicuramente dopo la vittoria di sabato È un bel ambiente Non che prima fosse negativo Però era un po' di tempo che cercavamo la vittoria Davamo tutto per averla E non arrivava Quindi è stato un momento un po' di fatiche È coronato dalla vittoria contro Trieste Che sicuramente ha dato tanto morale Tante buone speranze per il futuro Per il breve futuro Quattro squadre per tre posti Quanto ci credete ora? Sicuramente ci crediamo Ci crediamo Però Sai Secondo me è difficile Provare a pensare adesso Andiamo in playoff Non andiamo in playoff Secondo me noi dobbiamo concentrarci Su il qui ed ora Riuscire a fare le migliori partite possibili E queste ci porteranno sicuramente A dove dobbiamo andare Sai I tifosi della VL sono tanto legati Alla maglia Alla squadra Ieri ho visto C'era Lampopulos Era nel giorno libero Assediato da tanti tifosi E c'era un bel dialogo tra loro Ecco Quanto sentite l'amore e il calore dei tifosi E quanto è diverso magari rispetto alle esperienze che avete vissuto? Ma Qua si sente tantissimo Perché la piazza è una piazza storica È una piazza in cui la gente conosce la pallacanestro Conosce il passato che ha questa società Noi lo sentiamo tanto Sentiamo tanto la passione Abbiamo sentito durante l'anno Tante trasferte in cui sono venuti tanti tifosi Questo a noi fa un immenso piacere Io per le cose passate Io sono sempre stato fortunato Ho sempre avuto in passato delle tifoserie super Che stavano accanto alla squadra Però qua si sente tanto Si sente tanto, tanto È bello andare in giro E essere riconosciuti E quindi è una cosa positiva Che può unire Farci avere una forza in più quando siamo in campo Che voto daresti alla stagione di Riccardo Visconti Fino a questo momento E quanto può cambiare nelle ultime partite? Sicuramente mi darò un voto molto più alto Rispetto a quello che pensano gli altri Io mi do Un sette e mezzo me lo do Ma a prescindere dalle prestazioni in campo Per Per la testa che ho avuto Mi sono sentito dire Che le mie difese Molti messaggi mi sono arrivati Dai tifosi Che le mie difese gasano il pubblico A me non è mai stata detta una cosa del genere Nella mia vita Io inizio anno Le prime cose che ho detto Quando sono arrivato qua È che il mio progresso Il mio sviluppo come giocatore Partiva dalla difesa All'essere presente in difesa Da dare una mano alla squadra Difensivamente Magari con le energie E questo sono riuscito a farlo Inevitabilmente A prescindere dai palloni che entrano Dai palloni che escono Da quanti punti ho fatto Da quanti assist Hai parlato di percorso di crescita Quindi ti chiedo Indipendentemente Se Riccardo Visconti rimarrà o meno Alla VL il prossimo anno Ma se Cosa si aspetta Riccardo Visconti Dalla prossima stagione? Mi aspetto di riuscire a continuare Con questo Con questa energia Che ho Conosciuto anch'io Cioè Non Come posso dire Non è che l'ho imparata Ho scoperto questo Lato di me Che è sicuramente positivo Sia per me che per la squadra Sicuramente Il secondo step Che devo fare È riuscire a migliorare Un po' di più Sul controllo della palla Sul palleggio In modo da Riuscire anche a creare Per dei miei compagni Non solo Sfruttare Su uno scarico Su un tiro E riuscire ad amalgamare tutto No? E soprattutto Riuscire a Creare una costanza In quello che sto facendo E si conclude qui Questa edizione Delle telegiornale Rossini News Ma vi ricordiamo Alcuni appuntamenti A cominciare Da quello Subito dopo A chi ci segue In prima edizione Delle 19.40 Ovvero Quello con la musica Che alle 20.10 Vi farà rivivere Le note E le emozioni Dell'open day Del conservatorio Gioacchino Rossini Di Pesaro A seguire Come vi abbiamo anticipato Nelle TG La prima serata del giovedì È come sempre Dedicata al basket E come sempre In diretta L'appuntamento È quello Con insieme a canestro Con il focus Sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Nelle salotto Di Marco Cadeddu Che questa sera Avrà come ospiti L'ex giocatore E allenatore Mauro Procaccini E il giornalista Disportando Matteo Fattori Il tutto Come sempre Con la possibilità Di interazione In diretta Di voi telespettatori Al numero Whatsapp Dedicato 370-366-7210 Altra diretta È quella Consueta Del mattino Con Buongiorno Rossini Come sempre Dal lunedì al sabato Lo spazio È dedicato Alla rassegna stampa Dei quotidiani Locali In diretta Come detto Dalle 7.20 Si conclude Invece qui Lo spazio informativo Di Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi